Cronache di Thomas Covenant l'incredulo, insomma un classicone del fantasy moderno di cui dobbiamo assolutamente parlare anche perché è uscita questa nuova edizione, ok? Ne parliamo dopo la sigla. Allora esce per i Draghi Mondadori questa nuova ristampa delle Cronache di Thomas Covenant l'incredulo della Trilogia Completa, la prima stiamo parlando di un libro importante nella storia del fantasy, della letteratura fantasy perché comunque uscì nel 1977 e fece un, ed ebbe un enorme, un enorme successo un successo che forse fu secondo soltanto a quello della Spada di Ciannara che uscì nello stesso anno e tra l'altro anche per la stessa etichetta la del Rey che faceva parte della Ballantine che a sua volta era stata acquistata dalla Random House non che questo possa interessare proprio tutti ma insomma vabbè stiamo parlando di una casa editrice che comunque nella storia della letteratura fantasy per adulti comunque contemporanea nella definizione anche di che cos'è questo genere ha fatto molto quindi magari un giorno ci torneremo ma non ci interessa adesso questo punto ci interessa il fatto che Stephen Reader Donaldson nel 1977 riesce a pubblicare il primo volume Lord Foulsbane che viene tradotto in Italia nella conquista dello scettro ma 21 anni dopo quando uscirà per Mondadori nel 1989 e questo libro va a segno, va a segno assolutamente fa un grande scalpore, bellissime copertine che insomma quelle anche aiutano ma c'era anche il fatto che comunque dopo la febbre che si era scatenata per il Signore degli Anelli e ricordiamo prima edizione paperback proprio cioè tascabile proprio per opera della Ballantine insomma la gente ne voleva ancora, ne voleva ancora ed esce quindi questa trilogia ora non sono sicuro delle date perché ho trovato da qualche parte che uscì tutta insieme nel 1977 e altrove che il primo libro uscì nel 77 e poi il secondo nel 78 e il terzo nel 79 o forse addirittura nell'80 comunque questa è una trilogia che restò in vendita come best seller e long seller per tutti gli anni 80 ed allora insomma comunque è ancora molto molto celebrata cerchiamo di capire se fa il caso vostro allora prima di tutto piccola parentesi qua sotto trovate il link per acquistarla nel caso vi interessasse e io spero proprio di sì perché comunque è una gran bella lettura se lo acquistate questo volume nella edizione Draghi Mondadori con il link che vi metto qua sotto io ci guadagno una piccola percentuale quindi grazie perché mi aiutate a mandare avanti questo canale a fare altre recensioni, a darvi altre informazioni grazie dunque questa è una bella edizione senz'altro come sempre quelle dei Draghi Mondadori certo devono piacere è un'edizione impegnativa perché comunque pesante tante pagine ma comunque ben fatta la copertina a mio modo di vedere è affascinante ma c'entra poco c'entra poco con l'opera piccola critica pagine dorate qui nel taglio tutto molto bello ci sono tutti e tre i volumi e c'è anche una novella che è rimasta inedita per lungo tempo e che comunque fa parte della storia perché è così importante questa saga? notate che è anche oggetto di insomma di studi anche di alto livello accademico ormai e non mi stupisce perché comunque siamo di fronte a una storia raccontata in maniera molto interessante che soprattutto ha al suo centro tutta una quantità di temi di sottotesti che non disturbano affatto la lettura perché ciò che più conta è che siamo di fronte a un'avventura del tutto tolkieniana appassionante ambientata in un secondary world un mondo secondario molto affascinante ci sono le figure archetipiche di questo tipo di storia ma non banali assolutamente non banali raccontate con quelle variazioni sul tema che rendono comunque stimolante riassaporare un gusto che in un certo senso si conosce ma comunque qui elaborato in maniera differente la cosa che soprattutto salta agli occhi ragazzi è che qui abbiamo un protagonista che ancora oggi ancora oggi risulta incredibilmente innovativo incredibilmente stratificato difficile da interpretare cioè se fosse scritto oggi secondo me se questa saga fosse scritta oggi sarebbe ancora incredibilmente innovativa e anche molto provocatoria secondo me allora intanto Thomas Covenant chi è? Thomas Covenant è uno scrittore famoso che contrae di colpo senza ragione apparente insomma così come succede nella vita una malattia terribile ma non è la solita malattia non è la solita malattia che oggi associamo alla parola brutto male al termine brutto male alla locuzione ecco no è la lebra signore e signori la lebra quest'uomo si prende la lebra questo vuol dire che si decompone lentamente deve fare molta attenzione a non ferirsi le sue terminazioni nervose muoiono lui non avverte più non ha più il senso del tatto nelle mani nei piedi la sua vita crolla si sfalda completamente così come è destinato a sfaldarsi il suo organismo questo ha delle ripercussioni fisiche psicologiche emotive sociali la moglie lo lascia e si porta via il figlio non ha assolutamente intenzione di avere a che fare di vivere nella stessa casa con un lebroso lui rimane solo ai confini di una cittadina dove nessuno lo vuole vedere perché la lebra fa paura a tutti quest'uomo precipita in uno stato emotivo in una condizione psichica che è perfettamente se volete comprensibile ma questo non cioè quale un'amarezza una depressione un'amarezza un odio per se stesso per il mondo che è perfettamente comprensibile ma ciò non significa che ce lo renda più simpatico perché Thomas Comanant è una persona molto difficile da amare ok la sua sofferenza lo ha reso un individuo anche sgradevole ok parecchio sgradevole ma non per la malattia ma perché ormai è precipitato in un tale stato di amarezza e se volete di odio verso se stesso e gli altri che gli è di è la vita è la vita naturalmente che tutto ciò che esula dal dalla concentrazione su se stesso e sulla sua malattia non è più di suo interesse ecco lui ormai sa che al centro della sua esistenza esiste solo la lebra ok ma il fatto di essere ormai un reietto di essere obbligato a vivere lontano dagli altri esseri umani nella sua bella casa ma comunque nella completa solitudine lo porta poi a anche a ribellarsi cioè vuole tornare a volte fra gli esseri umani e quando lo fa tutti sono spaventati nessuno nella sua cittadina lo vorrebbe vedere a girarsi per le strade ed è lì all'inizio del romanzo che avviene un evento abbastanza inesplicabile nella sua semplicità per cui lui viene a quanto pare investito dall'automobile della polizia e invece di risvegliarsi in una comune ambulanza si risveglia in un altro mondo in questo mondo secondario dove è stato evocato dalle forze del male perché lui si presenti dai signori di questa terra che si chiama proprio la landa in inglese land perché si presenti dagli alti signori della landa per annunciare proprio che il male sta tornando diventa quindi il messaggero delle forze oscure tutto questo senza credere neanche per un secondo o per meglio dire combattendo con se stesso con questa nuova realtà col fatto che si ritrova in un mondo che lui dice a se stesso evidentemente è frutto della mia follia una follia scatenata dall'essere insomma all'aver vissuto negli ultimi nell'ultimo anno questo tutto questo orrore me l'avevano detto che avrei potuto impazzire ora devo fare attenzione devo cercare almeno di contenere l'influenza su di me di questa follia e quindi lui pensa per tutto il tempo è un sogno questo è solo un sogno quindi non devo prenderlo sul serio non devo credere a tutto quello che succede e la sua reazione è sempre più o meno di di rabbia di collera di malsopportazione di fastidio di lui non vuole essere lì non vuole vivere questa avventura che lo vede eletto a figura a figura profetica a figura quasi beh direi quasi messianica perché torniamo in un ambito molto classico e Thomas Covenant se nel suo mondo è l'ultimo degli uomini nella landa diventa il primo perché per una serie di circostanze che fanno sì che venga identificato come la reincarnazione il ritorno di un eroe mitico di mille anni prima quello che sconfisse il male nell'ultima grande battaglia che ci fu che non è non fu neanche la prima perché questa landa è comunque ogni tot flagellata dal ritorno di questo spregiatore ma per tutto il resto è il paradiso è assolutamente un luogo paradisiaco dove la natura è più che incontaminata è vibrante la primavera si avverte proprio fisicamente l'energia della natura ti pervade ti fa sentire bene tant'è vero che la condizione di Covenant muta nel tempo ora non mi voglio fare spoiler ma vi posso dire che sicuramente protagonista di tutta questa di questa vicenda è anche la landa che comunque è un territorio un mondo molto molto bello in cui avventurarsi vi posso assicurare che vi ritroverete se siete insomma sensibili a questo tipo di narrazione vi ritroverete a ripensarci alla landa e anche a volerci ritornare quindi magari la sera vi metterete lì e direte bene adesso andiamo a farci un giro nella landa a me questo è successo così come mi è successo di essere molto partecipe delle gesta o meglio non sono neanche gesta delle degli accadimenti che coinvolgono Thomas Covenant che è un personaggio in una trilogia che è assolutamente character driven cioè proprio impermiata intorno più al personaggio che all'avventura e mi sono trovato molto partecipe della sua sorte del suo tormento della sua ormai inveterata incapacità di lasciarsi avvicinare dagli altri perché ormai lui è un lebroso lui non deve essere toccato da nessuno lui è stato abbandonato da tutti coloro che amava ha perso tutto ha perso se stesso e si ritrova in un mondo che è centomila volte più bello del nostro perché appunto è un mondo innanzitutto di natura incontaminata natura magica natura vibrante natura più che viva e ricordiamoci che fu scritto nel 77 quindi quando ormai comunque il problema dell'inquinamento era molto iniziava a essere molto molto sentito ok quindi il tema ecologico sicuramente c'è così come tanti altri ma concentriamoci per adesso sul fatto che Thomas Covenant è un personaggio sofferente è un personaggio che non vuole credere infatti è l'incredulo o si potrebbe dire anche il miscredente non vuole credere a niente di quello che vede a tutti questi prodigi al fatto di essere considerato una persona importante chi io che sono l'ultimo sono il reietto sono il lebroso non è possibile ed è anche uno che compie delle azioni e qui entriamo per un attimo diciamo un aspetto che viene sempre comunque fuori quando si parla di questa trilogia attenzione perché Thomas Covenant all'inizio di questa storia si macchia di un crimine terribile terribile tant'è vero che quando ho letto quella parte lì io ho pensato no ma non è possibile non è possibile che il protagonista di una saga high fantasy così epica compia questo atto ora va bene che è un uomo confuso va bene che è un uomo che soffre va bene che non capisce più niente è depresso tutto quel che volete ma quello che fa è terribile all'inizio ok quindi sicuramente per alcuni soprattutto data l'accentuata sensibilità se volete anche un po' appunto politically correct attuale ecco preparatevi soprattutto se siete giovani soprattutto se siete donne soprattutto se siete particolarmente sensibili a certe cose ve lo dico preparatevi ad avere un piccolo shock perché o grande che potrebbe anche indurvi a dire ma che è sta roba e a buttare via il libro sì perché Thomas Comanant fa una cosa terribile no non ve la dico se non l'avete letto non vi voglio togliere né la sorpresa né lo stupore né lo shock ecco però sicuramente da quel momento in poi voi lo vedrete con occhi diversi l'eletto l'eroe il salvatore è una merda è un uomo assolutamente riprovevole da questo punto di vista non si può da questo aspetto non si può esulare ok non possiamo far finta di niente ma io ritengo che qui ci sia il valore dell'opera nella capacità che ha avuto Donaldson di portarci in un mondo secondario tolkieniano molto interessante con tanti temi sottotemi stratificazioni di se volete metafore ma comunque di temi ecco lui è un narratore non è un saggista e nel contempo di mettere al centro di tutto questo un uomo che è un uomo della contemporaneità è un uomo come noi forse peggiore la maggior parte di noi ok che in quanto reietto rappresenta proprio la nostra incompatibilità di esseri umani con la meraviglia la certezza la nobiltà di questo mondo fiabesco di questo mondo in cui le certezze esistono in cui il bene è chiaramente perseguibile esiste tu puoi fare puoi seguire il bene e poi esiste anche il male non ci sono dubbi da questo punto di vista ma lui è un uomo covenant corrotto fisicamente ma questa corruzione è anche quella un po' del suo spirito perché è un uomo dei nostri tempi e un personaggio quindi molto difficile da seguire mentre è molto facile ammirare tutti gli altri personaggi che lui incontra che sono molto affascinanti sono sono lodevoli sono veramente nobili e quindi ci sono guerrieri ci sono maghi ci sono diciamo semplici paesani persone che vivono in una condizione rurale ma hanno un animo molto nobile capaci di sacrificarsi per condurre questo covenant in questo incredulo alla sua destinazione il libro è un enorme cerca un enorme viaggio ok non vi aspettate che ci siano sistemi magici alla Sanderson tutti spiegati per bene no questo non avviene c'è la magia e basta ok così come non vi aspettate che ci siano ci sia tantissima azione no c'è moltissimo c'è moltissima diciamo introspezione c'è una scrittura notevole molto molto direi molto alta in certi momenti ma comunque sempre fruibile stiamo parlando di una saga comunque scritta per il mercato non di un'opera d'arte fine a se stessa ok e poi c'è molto world building c'è molta descrizione del mondo c'è c'è un ritmo molto molto a volte perfino lento perché stiamo parlando di un fantasy di parecchi anni fa ok parecchi anni fa non c'era la ricerca del ritmo dell'essere avvincenti a tutti i costi ciò nonostante se vi lascerete se vi abbandonerete a questa narrazione vi posso assicurare che almeno a me è successo veramente di provare emozioni molto molto intense perché tutti più o meno siamo stati anche dei reietti no tutti ci siamo sentiti dei lebrosi qualche volta nella vita soli abbandonati da tutti quelli che amavamo può succedere magari a voi non è successo a me sì per esempio e quella sensazione lì secondo me è anche tipica anche un po' dell'adolescenza sentirsi abbandonati sentirsi dei lebrosi socialmente inavvicinabili credo che che quindi in alcuni momenti veramente covenant ci rappresenti e sia raccontato molto bene sì lui diventa una figura stiamo sempre parlando del primo del primo volume lui combatte con se stesso e con la propria incredulità per tutto il libro ed è comunque una persona tendenzialmente sgradevole non è lui l'eroe lui è un anti-eroe completamente sono tutti i personaggi intorno a covenant che sono eroici che sono tolkieniani lui è uno di noi uno di noi che non ce la può fare e in più e in più compie delle azioni una in particolare appunto orribile orribile si può dire che lui sia stato un po' un po' un antesignano come personaggio del del grim dark fantasy perché non è possibile non è possibile perdonarlo per certi versi è una persona che compie anche azioni orribili è malvagio è incredulo è debole è sempre arrabbiatissimo è sgarbato è maleducato tratta male tutti eppure viene aiutato eppure viene aiutato da queste persone meravigliose che incontra sul suo cammino perché la landa è tutto è tutto ciò che il nostro mondo non è se nel nostro mondo la realtà del male è diffusa fra tutti noi perché siamo tutti e buoni e malvagi nella landa il male è tutto concentrato in un unico polo in questa diciamo questa compagine del male soprattutto nel signore nello spregiatore e tutti gli altri invece quelli che appaiono almeno in questo libro sono 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 le persone migliori che uno può solo sperare di incontrare nella vita questo è commovente comunque Comerant invece viene dal nostro mondo dove il male è diffuso e lui infatti lo trasporta lo veicola nella landa si può dire che lui somiglia di più allo spregiatore che ai suoi compagni d'avventura che invece sono nobili sono personaggi appunto di un high fantasy le emozioni arrivano le emozioni sono forti e comunque Donaldson riesce a farci amare questo questo Thomas Covenant l'incredulo che non possiamo che che compatire perfino quando quando è veramente sgradevole antipatico ce le ha tutte però è rimasto è una icona della letteratura fantasy che merita la sua posizione nel nella hall of fame ecco mettiamola così assolutamente quindi io vi consiglio assolutamente di leggerlo preparandovi anche al fatto che è una è una trilogia è un modo di scrivere è una saga che è uscita nel 77 secondo logiche diverse logiche narrative diverse da quelle odierne non vi aspettate continui colpi di scena non vi aspettate che sia sempre incalzante ma se vorrete le concederete a questa saga di prendervi un po' alla volta vi ritroverete appunto come vi dicevo a desiderare di tornare nella landa e vedere cosa succede e comunque respirare quell'aria quell'aria magica e vibrante vibrante di una natura pura che c'è lì appunto in questo territorio in questa landa a voi la lettura fatemi sapere se vi interessa leggerlo se l'avete già letto cosa ne pensate veramente mi piacerebbe attivare un po' una conversazione con voi qui sotto nei commenti perché secondo me le cronache di Thomas Comenant l'incredulo meriterebbero tanti approfondimenti sì tanti un capitolo alla volta meriterebbe andare ad analizzare che cosa ha scritto che cosa c'è che cosa ha scritto Donaldson che cosa ha messo quali temi potrebbero essere oggetto di profonda discussione davvero sono rimasto molto molto colpito grande ciao a tutti da Flavio Troisi di Broken Stories